al Circo Massimo Show dei tigri e i leoni di Redi Montigo da molti anni per lavorare con i grandi pelini si usa l'addestramento in dolcezza un metodo attraverso il quale l'ammaestratore riesce a diventare il capobranco senza fare uso della forza il Redi Montigo nonostante la sua giovane età è davvero un maestro di questa tecnica Luca Re di Montico è forse l'unico che riesce a gestire un gruppo di 11 grandi pelini e a farli fare cose di questo tipo ma questo è solo l'inizio grazie Grazie a tutti. 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 Su, 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 su. Su, 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 su. Applausi, su, 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 su. Applausi più che meritati per Eddie Montico.